Bene, prima di passare a vedere i software di slicing nel dettaglio, ora qui vi ho messo alcune icone di anteprima, questo è per usare slicer, simplify o cura, parliamo dei file che servono, quindi dei file che dovete esportare necessariamente per poi poter stampare in 3D. Il file che ci serve, ve l'ho scritto qui sotto a grande, è il file STL, è il formato più comune che viene utilizzato nella stampa 3D. Come fare ad avere questi file? Naturalmente per chi si avvicina la prima volta al mondo della stampa 3D può sicuramente venire il dubbio. Ci sono varie strade, principalmente le strade sono due, quindi o disegnare un modello STL, quindi con un qualsiasi modellatore CAD. Noi solitamente per chi inizia, per chi è alle prime armi con la modellazione 3D suggeriamo questa web app che è Tinkercad, che è molto semplice da utilizzare e vi permette in breve tempo di rompere il ghiaccio e quindi di creare facilmente dei modelli 3D. Oppure per chi magari è già più esperto esistono anche software CAD più avanzati che vi permettono di controllare maggiormente il vostro modello, per esempio Fusion 360, esempio di Autodesk. Quindi questa è la prima strada, quindi disegnare quello che ci serve e qui naturalmente non avete limiti, c'è solo magari da capire le prime volte un po' quella che può essere la progettazione per il 3D. In alternativa, se non volete iniziare subito con un vostro disegno, per tutta una serie di motivi che, per esempio, soprattutto per chi comincia da zero, magari può avere il dubbio di aver sbagliato il disegno, aver disegnato qualcosa male, quindi aggiungere l'incertezza del disegno a magari l'incertezza dei primi utilizzi della stampante. Per cui se volete un disegno, un file di cui siete sicuri che funzionerà, il mio consiglio è quello di andare a scaricarlo da una serie di siti che permettono di scaricare i contenuti gratuitamente. Il più famoso è questo, Tingiverse, ok? Lo leggete qua, Tingiverse. Che cosa sono questi? Queste sono delle grandi gallerie, dei grandi contenitori che raggruppano la più svariata quantità di oggetti, ok? Ci trovate veramente di tutto, però sono ottimi perché di solito chi carica il materiale qui dentro, queste sono delle community, una sorta di social network della stampa 3D, dove qualsiasi utente può caricare i suoi modelli. Il bello è che i modelli che vengono caricati solitamente sono abbastanza corretti o comunque avete modo di controllarli prima di stampare, ok? Poi vengono proposti, comunque vengono aggiornati molto molto di frequente. Ora scusate, ho internet un po' lento, però piano piano vedete si caricano, eccoli qua, si caricano i contenuti. E sono due, io preferisco questo, lo trovo un po' più affidabile, però ne esistono tanti altri. Per esempio, un altro è questo, è My Mini Factory, dove anche qui trovate tantissime risorse. Oppure, un po' più indicato probabilmente per la scuola, è questa sezione qua, sempre all'interno di My Mini Factory, che si chiama Scan the World, e che raccoglie scansioni o riproduzioni di reperti, pezzi museali, statue, e manufatti, che vengono un po' da tutto il mondo. Quindi questo lo trovo molto molto interessante come sito. Magari non è facilissimo iniziare subito con delle riproduzioni del genere, che presentano diverse difficoltà tecniche proprio, quindi magari questo vi consiglio di vederlo quando siete già un pochino più esperti di stampa 3D. Però è una risorsa che è bene conoscere, perché è sicuramente molto interessante. Per fare una prova, io utilizzerò un pezzo di Tingiverse, sono quelli che vedremo via via, andando avanti nel corso, che utilizzerò come esempio in tutti i software di slicing che vedremo. E vi faccio vedere subito qual è il pezzo che utilizzeremo. Eccola qua, è questa ranocchietta, è un modello classico, è un modello abbastanza semplice, che permette di esplorare a livello base, intanto, tutte le potenzialità dei software di slicing. Ne approfitto per farvi vedere come è strutturata la pagina base di Tingiverse. Questo che voi vedete in blu è il modello 3D, quindi, scusate, se cliccate su questo cubetto che vedete qui in alto a destra, vi carica il 3D, che è direttamente navigabile, direttamente controllabile, proprio dal sito internet, ok? Quindi qui vi permette di vedere il modello in tutta la sua interezza. Naturalmente è un controllo che potete fare per capire come è fatto un modello, ma alla fine è poco più che l'anteprima che comunque vedete nel sito. Per scaricare un oggetto, potete andare, avete due strade, o fare il download da questo tasto qua, con l'unica difficoltà, tra virgolette, che facendo il download qui, il programma in automatico vi scaricherà una cartella compressa dove dentro ci sono tutti i file contenuti nella pagina. Questa naturalmente è un'automazione del sito, quindi che il file sia 1 o che siano 20, lui scarica comunque una cartella compressa dove dentro trovate tutto il materiale. Per scaricare modelli semplici, come in questo caso, io vi consiglio invece di passare da qua, da Thing Files, quindi scorrere un po' verso il basso, e cliccare su questa casellina che è Thing Files, dove avete elencati tutti i file che compongono il progetto, quindi in questo caso ce n'è uno solo, che è la nostra ranocchietta, e quindi vi consiglio di dare il download da qui, da questo tasto qui, in modo da scaricare direttamente il formato, vedete, il file nel formato che vi dicevo prima, che è l'STL. Bene, quindi in questo modo abbiamo il nostro file pronto per essere processato, pronto per essere trasformato nel linguaggio della stampante. Bene, perfetto, allora, niente, questo era solo qualche esempio per capire, per vedere dove poter reperire dei file 3D, e ora vediamo come prepararci alla stampa.